Il turno infrasettimanale dopo il riposo di domenica, un caserta finalissima. Sì, riposo agonistico, però noi ci siamo allenati ovviamente. Riprendiamo con questo turno importante, queste due partite che chiudono questa stagione, questa regular season. Due partite fondamentali per noi, quindi sarà uno sprint molto interessante. Siamo ben contenti che la nostra stagione si concluda ancora con obiettivi da raggiungere. Quindi abbiamo reso proficuo il nostro lavoro fino ad oggi e adesso dobbiamo completare l'opera cercando di portare a casa almeno una vittoria in queste due gare che mancano. Giovedori non sono tutti al 100%, mi diceva Zoroski. Sì, Zoroski ha un problema muscolare che si è procurato nell'amichevole con Pesaro di venerdì scorso. Adesso è stato fermo fino ad oggi, vediamo se riusciremo pian piano a reinserirlo nel gruppo e quanto potrà darci soprattutto in previsione della partita di giovedì. Fulz, un piccolo colpo all'occhio, niente di grave. Sì, Fulz era una ditata in un occhio, diciamo è un reparto oculistico adesso per controllare lo status del suo occhio, però insomma sembra più una contusione che non qualcosa di peggio. Caserta che squadra sarà? Caserta è una squadra di grande talento, una squadra che non ha cambiato praticamente niente o perlomeno non ha cambiato molto rispetto al roster che lo scorso anno ha fatto così bene arrivando al terzo posto, quindi una squadra di grande qualità, di grande atletismo. Ha fatto un campionato un po' altalenante, facendo benissimo in Europa e forse spremendo molte energie dalla sua stagione europea e riuscendo ad averne magari qualcuna in meno nella stagione italiana. Qualche infortunio che ha condizionato un po' il suo percorso, però è ancora in corsa per i play-off, quindi credo che sarà una partita durissima, difficilissima. Dovremmo essere noi a vincerla, non saranno certo l'ora a regalarcela. Giovedì il Palasca dovrebbe essere una polveriera soprattutto per i tifosi. Il Palasca è sempre un campo molto caldo dove c'è grande affetto verso la squadra, quindi non si chiede ai nostri tifosi un extra sforzo. L'extra sforzo lo dobbiamo fare noi, l'abbiamo fatto fino ad oggi, quindi dovremo concretizzare il buon lavoro fatto fino a questo momento e cercare di raggiungere un obiettivo che solo fino a qualche settimana fa sembrava esperato. Grazie.